Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Disordine Creativo, bentornati se mi seguite da un po' e benvenuti se invece è la prima volta che venite qui nella mia craft room disordinata. Allora, oggi un video diverso dal solito. Ultimamente, andando sui canali delle amiche che seguono la cosmesi, la skin care, trovo molto spesso dei video che mi piacciono tantissimo che sono gli svuota la spesa. Svuota la spesa DM, svuota la spesa Tigota, svuota la spesa Lidl. Io il Lidl non ce l'ho quindi non posso fare per il momento lo svuota la spesa, ma ho deciso di fare uno svuota la spesa Tigota. Il Tigota è un negozio che ho praticamente a 50 metri da casa mia, dove vado spesso a fare la spesa per quanto riguarda tutto quello che sono i detersivi, la cura della casa e se prima non ci avevo mai fatto caso alla parte della cura del corpo, skin care, detergenza e quant'altro adesso quando vado sto dentro un'ora praticamente, perché giro, guardo e quindi ho detto va bene, siccome io mi diverto, mi piace e soprattutto mi è utile scoprire prodotti che altre ragazze recensiscono, dove si sono trovati bene, ma ci provo anch'io. Speriamo che vi interesse, altrimenti nulla, l'ho fatto per me insomma. Ma veniamo, facciamo prima la parte dei detergenti casa, che sono quelli che utilizzo di solito ma anche alcune cose che ho scoperto e che così vi faccio conoscere se magari voi non li conoscete o se voi li volete provare e poi passiamo invece alla parte beauty. Allora, prima cosa, i primi prodotti che ho scoperto perché arriva la primavera il Mauri lava i vetri perché la Elena col braccio non riesce a far nulla e allora avevo finito le mie bustine che compro di solito quando lavo le tende e volevo trovare qualcosa di diverso e ho scoperto questi due prodotti che non conoscevo ma che ho già utilizzato per tutte le tende che ho lavato in questo fine settimana e sono buonissimi, ma buonissimi davvero, cioè pulitissime, bianche e soprattutto sembrano inamidate. Allora, il primo che è tende fase A, che è questo, se lo vedete che c'è il riflesso, buonissimo questo praticamente è il detergente potenziato con tensioattivi di origine vegetale ho lavato le tende a 40 gradi, uno spettacolo! Allora, qua dice 12 lavaggi, ma io ne ho usato molto meno, ne ho usato due tappini per 4 tende a volte insomma, quindi direi che secondo me ne vengono fuori di più di 12 lavaggi ottimo, sbianca e le ha lasciate veramente veramente stupende e poi la fase B, tende fase B curale, dove penso sia questo quello che ha dato l'effetto tipo dell'amido inamidato la mia mamma ai tempi ci aggiungeva lo zucchero, noi abbiamo fatto un passo avanti e ho comprato questo prodotto e devo dire che è uno spettacolo, ma proprio belle, lisce io, come penso tutte voi, non uso la centrifuga, quindi faccio fare il lavaggio e le stendo molto molto bagnate e devo dire che le tende sono venute meravigliose, quindi prodotti promossi prima volta che li uso, ma prodotti promossi secondo prodotto che mi è piaciuto un sacco per lavare non l'avevo mai provato, per lavare i detergenti delicati ho lavato delle camicette di seta che avevo, un maglione sete cashmere in lavatrice, perché io lavo solo in lavatrice e non a mano e mi è piaciuto, mi è piaciuto un sacco ha un profumo leggero, qui dice profumo ai fiori di rosa ma io non ci sento moltissimo la rosa si, si sente, ma ha un profumo di fiori in generale è ipoallergenico, testato contro il nickel, il cobalto, il cromo e tutte queste cose materie prime di origine vegetale vabbè conosciamo benissimo la marca Winnie's quindi direi promosso anche questo prodotto poi, prodotti nuovi che ho provato io sono sempre alla ricerca del profumo lo sapete che mi piacciono i detergenti profumati quando faccio i miei detersivi in casa a bondo di profumo in questo periodo non ho voglia di fare i detergenti quindi non li faccio e sono andata a comprarmi dei profumi ho trovato, questo è quello che ho già utilizzato anzi due ne ho utilizzati ma li ho comprati l'altro giorno perché volevo provarli ho provato questi profumatori profumo abbucato biologici ipoallergenici nickel tested eccetera eccetera di natura amica ci sono in tre profumazioni questa che è al bergamotto e gelsomino ed è buonissima questa che è al fior di loto e muschio bianco e questa che è alla lavanda che è anche questa deliziosa sono certificati IAB e sono in polvere qui consiglia di aggiungerli all'ammorbidente o comunque nell'ultimo risciacquo allora ne va aggiunto mezzo cucchiaino se il carico è sui 4-5 chili io ne ho aggiungo un cucchiaino intero scarso perché la mia lavatrice è da 8 chili ed è sempre piena da 8 chili e devo dire che sì il profumo si sente è molto delicato e anche dopo l'asciugatura quando non li metto nell'asciugatrice perché adesso devo risparmiare sull'energia elettrica li faccio asciugare fuori e il profumo rimane molto delicato e persiste per qualche giorno quindi ottimi anche questi ottimi ho provato però anche altri due profumatori che mi sono piaciuti di più e adesso ve li faccio vedere e sono questi due questo è coccolatevi profuma la biancheria e la casa lo indica anche per profumare diciamo l'acqua che si usa per pulire i pavimenti anche se c'è magari un altro detergente io in quel modo lì non l'ho usato perché spero di avervelo portato non l'ho portato fa niente ve lo farò vedere la prossima volta ho trovato un detergente che profuma al limone e che lascia il pavimento spettacolare rimane il profumo di limone parecchie ore dopo che si è lavato il pavimento buonissimo allora questo è al profumo di muschio bianco e mi è piaciuto molto questo è liquido ha il dosatore così e lo mettete sempre insieme all'ammorbidente e intensifica il profumo molto molto buono e questo che secondo me è il migliore profumo di Argan ma si sente tantissimo quando poi ritirate la biancheria asciutta soprattutto sugli asciugamani è uno spettacolo buonissimo 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 anche questi super consigliati poi tanto per dirvi che i video delle amiche funzionano avevo visto da Simona che c'era l'offerta del Vernell questi non sono quelli concentrati a 0,99 infatti settimana scorsa erano tutti in offerta a 0,99 si qua dice ammorbidente concentrato ma secondo me non è concentrato vabbè comunque Vernell Aromaterapy Desiderio di Rosa buonissimo è veramente buonissimo questo non l'ho ancora provato e freschezza glaciale umama che buono buonissimo e ce n'è un altro che invece ho già finito perché come vi dicevo la mia lavatrice qui lavora giorno e notte sempre da un consiglio di un'altra amica avevo visto il Rio Casa Mia per la cucina e infatti l'ho provato ed è buonissimo veramente veramente buono allora questo è sia per la cucina che per le camicie io questo non l'ho ancora provato sulle camicie di solito uso lo Chanteclair ma proverò anche questo sgrassatore universale al profumo di Marsiglia e Agrumi è proprio buono sulla cucina quando lavo l'acciaio viene bello pulito si sente il profumo degli Agrumi è molto fresco mi è piaciuto tanto quindi questi svuota la spesa per me servono e poi questo prodotto che io non conosco e che non ho ancora provato ma lo vorrò provare perché sono sempre alla ricerca di un anticalcare che sia strong per il vetro delle docce che mi rimane sempre pieno con le goccioline rimane il calcare insomma mi dà un fastidio rimane opaco e quindi questo è in mousse l'ho provato non scende molto velocemente nella parte che l'ho provato il calcare si è sciolto quasi subito e quindi adesso questo weekend che avrò tempo farò la pulizia docce con questo detergente e poi vi saprò dire ultimo prodotto per la casa che non può mai mancare io mi trovo bene con questo sbiancante di spuma di champagne è un additivo è una polvere igienizzante che utilizzo sia per i bianchi che per i colorati non mi ha mai fatto nessuno scherzo sui colorati non rimane la polverina quando lo si mette nella lavatrice lo trovo ottimo 600 grammi quindi dura anche a sufficienza anche se noi essendo in 4-5 di lavatrici ne facciamo veramente tantissime e quindi questo è insomma allora questi sono i prodotti che io ho acquistato per la casa diciamo così mentre poi ho fatto una piccola scorta di prodotti per la cura di se stessi allora ho trovato questo mi pare già due settimane fa adesso non è più in offerta ma io l'ho trovato in offerta a 4,92 è uno spray corpo della Biopoint l'ho preso in curiosità perché ne erano rimaste pochissime referenze ho pensato che stessero cambiando il pecco la formulazione e infatti sono ritornata questa settimana e non l'ho più trovato non so se è cambiato qualcosa o stanno cambiando qualcosa generalmente è venduto sui 10-11 euro io l'ho trovato a 4,92 e potevo secondo voi lasciarlo lì sullo scaffale ma no ma proviamolo Eli proviamolo che sicuramente per l'estate visto che uno spray è sicuramente più leggero booster idratazione in uno spray crema corpo express setificante e anche di questo poi vi saprò dire poi sempre sentendo la mia amica Simona che poi vi metto sotto il canale perché io so i nomi ma non mi ricordo i nomi dei canali di youtube dove parla degli oli corpo lei è un amante delle creme corpo degli oli corpo io l'olio corpo o meglio io sul corpo non ho mai messo nulla ma neanche una crema ultimamente con i problemi legati alla menopausa e sudando tantissimo la mia pelle che già del corpo era normale è diventata molto secca molto disidratata ho cominciato a utilizzare delle creme ed effettivamente ne ho trovato a giovamento la pelle è sicuramente più nutrita molto più liscia molto più morbida e lei parlava anche dei benefici degli oli e allora io che cosa che cosa ho fatto ero all'antigotà e c'erano questi due oli o questi due ce ne sono tantissimi il mio tigotà non è grandissimo non ha tantissime referenze alcune referenze che sento e che vedo dai video online non le trovo in questo ce n'è uno che distante un quarto d'ora di macchina da casa mia la prossima volta andrò a fare una retata lì ma vabbè ho provato questi due costano sui 3-4 euro l'uno poi eventualmente se trovo i prezzi ve li lascio sotto in infobox questo è della bioteca italiana melagrana bio olio corpo con olio di melagrana bio organic si vabbè quello che vi ho detto è scritto in inglese quindi lo dico in italiano olio corpo con olio di melagrana bio poi c'è la certificazione bios mi pare ma è talmente scritta piccola che non la vedo se voi la vedete è lì in basso vediamo che entra il sole ok sentiamo se c'è un profumo oh mamma il profumo è delizioso buonissimo questo devo cominciare ad utilizzarlo subito e poi di green pharmacy questo che mi sembrava un po' più fresco olio per massaggio questo è anticellulite ma io me lo sparerò su tutto il corpo perché tanto qua la cellulite è da tutte le parti anche sulle belle bracciotte e quindi massaggio olio per massaggio anticellulite con oli essenziali di cipresso ginepro lavanda e lime sentiamo no è chiuso del tutto ma questo non lo apro allora perché è chiuso poi vi saprò dire com'è poi sento sempre parlare della linea di garnet degli sciampi garnet fructise tutta questa cosa tutte queste linee bellissime alla frutta le maschere così e mi sono lasciata tentare ho comprato la maschera air food all'anguria lo shampoo air food all'anguria e pure il balsamo questi non li ho ancora provati perché sto provando altri brand sentiamo se si sente veramente oh mamma anguria anguria pura buonissimo speriamo sia anche buono sui capelli poi potevo lasciarmi scappare la vintage tonico all'acqua di rose questo è stato un acquisto regalato proprio dal dal ricordo dell'infanzia della mia mamma che era forse l'unica cosa che utilizzava a spot poi perché non è una che ci ha mai tenuto tantissimo alla pelle non ci tiene tuttora proprio non gli interessa acqua distillata alle rose e questa la utilizzerò come tonico non era in offerta questo me lo ricordo perché costa sui 4 euro qualcosa del genere poi 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 ho comprato queste maschere le ho comprate tutte e doppie ma l'altra parte se le è tenuta la Lucia perché me le ha già prese tutte quindi ho preso una maschera per capelli di Ecos con idrolizzato di semi di moringa poi sempre per i capelli Biolis Natur all'olio di Argan di questa linea ho appena scoperto una crema corpo che sto utilizzando e che mi piace tantissimo al polpelmo e alla pesca ha un profumo veramente meraviglioso veramente meraviglioso se anche di questa marca ho sentito parlare sempre bene quindi mi sono un po' fidata di quello che ho sentito poi maschera capelli riequilibrante aloe vera anche questi sono 98% di ingredienti naturali formula verde rispettosa no parabeni no siliconi no oli minerali no petrolati e paraffina insomma tante cose cattive qui dentro non ci sono poi sempre di biolise nature maschera ai capelli per tutti i tipi di capelli e qui è indicato che è vegana e poi per i capelli mi pare di aver finito e poi ho preso sapete che noi le maschere praticamente le mangiamo maschera viso 5 minuti purificante effetto mar matt si mar effetto mar vado al mar di geomar e sempre della geomar maschera viso anti age rassodante con ambra oceanica e bio fiore di ibisco queste sono due confezioni sono due maschere in una diciamo confezione che poi ha il taglio in mezzo bene poi ho preso queste erano alla cassa il commesso che praticamente oramai mi conosce mi ha detto ah ma signora lei che ha preso tutte queste cose per il corpo magari le possono interessare le creme viso della della linea delle driadi e siccome le driadi mi piace tantissimo come come linea ho già provato qualche qualche referenza e mi piace mi sto trovando bene ho detto ma si va bene a 1 euro e 99 ho preso queste maschere argilla rosa e pompelmo maschera riequilibrante viso maschera dissetante all'aloe e al ginko maschera rigenerante all'argan e maschera nutriente all'avena e calendula le proverò se per caso voi le avete provate e mi dite come vi siete trovati mi farebbe veramente molto piacere poi comunque ve lo metterò nei video dei provati terminati e poi per ultimo ma non per perché non ha importanza ma siccome un prodotto di questo l'ho già comprato e finito e quindi l'ho ricomprato la mist di essence non c'era più niente nella come si dice nello stand di essence era finito tutto i sieri non c'erano più i nuovi le nuove creme colorate non c'era più niente non c'era neanche un rossetto non c'era un burro cacao non c'era un cavolo erano rimasti questi due prodotti e quindi ho detto no vabbè li prendo io che così svuotiamo addirittura lo stand e siamo a posto questa io ve la consiglio perché questa io la uso alla mattina per darmi il colpo per partire e andare in ufficio questa è una essence un tonico un'acqua idratante al profumo di anguria è una cosa spaziale ma spaziale veramente cioè sapete che io i profumi li uso in base a come mi sento se io mi alzo ho bisogno di una sferzata di energia mi do questa e mi fa stare subito benissimo come magari che ne so voglia di un profumo fresco e mi metto il mio Calvin Klein se ho bisogno di un profumo agrumato utilizzo il profumo all'essenza di bergamotto insomma come mi sento quello che voglio la spinta che voglio avere durante la giornata la decido in base anche al profumo che metto ecco questa io la utilizzo la mattina perché mi da una carica intanto che mi spruzzo sento l'acqua di il profumo di melone di melone si di di anguria anguria melone è è spettacolare io questa ve la consiglio è spettacolare c'è questo formato da da 100 ml costa 4,99 ecco se magari ci fosse anche da 200 io lo comprerei perché mi piace tantissimo e poi ho preso questo siero al all'estratto di ananas idratante e glow quindi glow so il significato ma è glow in italiano come si dice luminoso potrebbe essere giusto corriggetemi se sbaglio questo non l'ho ancora aperto perché ho altri ho altri sieri ma non potevo lasciarmelo scappare che così ho svuotato lo stand di essence e possono ricomprare e metterci le cose così posso andare a vedere se c'è qualche novità bene sono stata veloce spero di avervi dato qualche input per fare nuovi acquisti o se magari c'è qualche prodotto che non avete mai utilizzato e volete provare io vi ho fatto vedere qualche cosa vi riconsiglio assolutamente questi due prodotti per le tende se state cercando dei prodotti che lasciano le tende pulite belle tese senza neanche stirarle fantastici veramente fantastici perché questi che li ho già utilizzati altri due prodotti che vi ho detto che mi sono piaciuti tantissimo sono i profumatori questi due gli altri mi piacciono ma mi piacciono molto di più questi se volete dare un tocco di profumo al vostro bucato questi ve li consiglio e tra tutte le cose che ho comprato sicuramente questi due per la vostra skin care questo io l'ho già provato ed è buonissimo veramente buonissimo bene cari amici adesso vado a finire tutte le mie belle cosine stasera c'è il gruppo missionario dobbiamo cominciare a fare i lavori per la festa della mamma io vi auguro un buon pomeriggio vi auguro una buona settimana perché oggi è lunedì non so quando riuscirò a caricare questo video spero che che vi sia piaciuto se non vi è piaciuto pazienza ragazzi vabbè io ci ho provato vi abbraccio tutti vi mando un grosso bacione e niente ci vediamo alla prossima ciao ciao grazie